Mi fa piacere tutta questa fiducia che mi stanno dando la società, il mister. Ci teniamo a ringraziare anche i miei compagni di squadra che mi stanno dando una grossa mano in ogni allenamento. Ero emozionato, non so se si è visto, ma ero emozionato. Però ho cercato di essere me stesso e credo di aver fatto bene. È stato un inizio difficile, ma grazie ai consigli del mister stiamo trovando il modo per rialzarci. Me lo auguro, ma io cerco solo di impegnarmi in ogni allenamento. Poi le scelte sono del mister. Zielischi mi piace.